...dice che fa freddo e infatti fa freddo e nevica in molte località, la neve è sulle zone alpine, sulle zone prealpine, anche a quote basse sulla pianura padana e su molte zone dell'appenino centro settentrionale. Vediamo subito la carta del tempo prevista per oggi a mezzogiorno, è una carta che ci fa vedere una perturbazione ormai, una nuova perturbazione che si inserisce nella circolazione depressionaria presente sull'Italia e che per mezzogiorno si porta sulla Calabria, vedete, via via verso la Puglia e poi lungo la Dalmazia rientra sotto forma di occlusione, quella in viola, sulla pianura padana. Poi un nuovo impulso perturbato, lo vedete dalla Sardegna alla Tunisia, l'abbiamo rappresentato con una linea alternata a due punti e quella che viene chiamata instabilità. Se c'è una bassa pressione, vedete 1000 mbar previsti sulla Corsica e sulle coste dell'Adriatico, fino a 1800 mbar al nord e 1800 mbar sulla Sicilia e vediamo la previsione per oggi. Per oggi si prevede ancora un cielo generalmente nuvoloso al nord con precipitazioni sparse anche nevose, ovviamente anche a quote basse, al centro e al sud una maggiore variabilità, comunque tendenza a nuvolamenti sempre più estesi e consistenti, quindi temporali, piogge sparse. Il vento è previsto ancora sostenuto da sud al meridione, da Bora sulle regioni nord orientali, le temperature in leggera diminuzione e i mari molto mossi o anche agitate. Ed è tutto, grazie e buona giornata.